Ciao bambini, oggi facciamo un piccolo ripasso sulle frazioni Guardate queste due paroline, intero e frazione Come ben sapete, in matematica queste due paroline hanno un significato ben preciso Iniziamo da intero Intero, come sapete benissimo, è un qualcosa di completo a cui non manca nessuna parte Andiamo a vedere il nostro intero attraverso questa arancia Ovviamente voi a casa, se avete una torta, una mela, potete fare benissimo quello che io sto per fare Andiamo a dividere il nostro intero in parti uguali Quindi andiamo a frazionarlo Cosa significa frazionare? Frazionare significa dividere questo intero in parti uguali Eccomi qua, ho diviso in quattro parti la nostra arancia Vedete, una, due, tre, quattro Se io adesso ne mangio una, cosa succede? Cosa ho fatto? Ve lo dite voi alla prossima Ciao